Salve a tutti. In questo video tratterò del rapporto tra testimoni di Geova e le religioni pagane. In questa prima parte, parlerò della cultura e della filosofia greca, nel prossimo video di quella mediorientale. Ma prima, vi invito a guardare tutto il video fino alla fine, mettere like, iscrivervi, condividere e guardare gli altri video. Altrimenti questa notte, sognerete la mia faccia, e fidatevi che è peggio della grande tribolazione. Una cosa di cui i testimoni di Geova si vantano è di essere veramente cristiani, accusando gli altri, soprattutto i cattolici, di essere pagani. Un evergreen dei TDG è che la Trinità sia di origine platonica. Parlerò della Trinità anche nel prossimo video, riguardo i popoli mediorientali. Per il momento parlerò solo della Grecia. La dottrina secondo la quale Dio Padre sarebbe superiore al figlio Gesù deriva dal prete e teologo antico di nome Ario, per cui si chiama arianismo, ma non ha nulla a che fare con Hitler e il nazismo, si è chiaro. La cosa divertente è che Ario per spiegare l'inferiorità del figlio al padre lui si rifà proprio al neoplatonismo. Per essere più semplice, prendiamo come esempio Plotino, il principale autore neoplatonico, lui pose questa gerarchia di entità, chiamate ipostasi, uno, nu, ovvero il pensiero, e l'anima del mondo. Da considerare che Plotino nasce duecento anni dopo di Cristo, mentre Platone nasce quasi quattrocento anni prima di Cristo e non la pensavano allo stesso modo. Se nella gerarchia di Plotino sostituiamo l'uno con Dio, cosa che facevano tutti i neoplatonici cristiani, il nus con il logos, ovvero il pensiero con la ragione, cioè due parole in un certo senso gemelle, e infine l'anima con lo spirito, per le quali vale lo stesso discorso di prima, otteniamo le tre persone della Trinità, ma non sullo stesso piano, ma una sottoposta all'altra. Quindi non solo la Trinità non è platonica, al massimo sarebbe stata neoplatonica, ma addirittura è la negazione della Trinità ad essere di origine neoplatonica. Al limite possiamo dire che la teorizzazione sistematica della Trinità si è stata fatta con termini neoplatonici, ma non possiamo negare che nella Bibbia si parli del Dio d'Abramo, di Sacco e Giacobbe, oppure del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, o di tutte le volte in cui ricorre il numero 3. Riguardo la questione dell'immortalità dell'anima. È vero che all'inizio, nell'Antico Testamento, non c'era nessuna dottrina dell'immortalità dell'anima, ma nemmeno della Resurrezione, tanto che i Sadducei, che credevano solo nella Torah, non credevano nella Resurrezione. Nella letteratura biblica c'è stata un'evoluzione del pensiero teologico, dovuto anche all'influenza dei popoli circostanti, come Babilonisi, cosa che vedremo nella seconda parte del video, persiani e anche greci. Come già spiegato nel mio video sul Pentateuco, nel video sulle profezie bibliche e in quello sull'ispirazione della Bibbia, le date di composizione dei libri biblici sono molto posteriori a quelle credute come vere dalla tradizione e dai testimoni di Geova. Per cui non c'è da stupirsi che i testi più recenti dell'Antico Testamento abbiano risentito delle influenze greche, senza le quali nemmeno avremmo mai creduto che la Terra è una sfera. Anche di questo ho parlato in altri video. In breve, se è vero che la Bibbia abbia ritenuto, almeno da un certo punto in poi che la Terra fosse una sfera lo si deve all'influenza del pensiero greco. Per cui anche questa dottrina carissima è di origine pagana, tanto che alcuni fanatici cristiani sono terrapiattisti, perché il globo è di origine greca, non biblica. Di fatto i TDG credono fermamente, meno male, che la Terra sia una sfera, e lo devono pensatori pagani. Tornando alla questione dell'anima, nei libri dei Maccabèi, che sono accettati nel canone cattolico-ortodosso, ma non in quello ebraico e protestante, si accenna all'immortalità dell'anima. Ma soprattutto, la Bibbia dei Settanta, per certe cose tanto cara anche ai TDG, traduce Sheol, il luogo in cui riposano i morti, con Hades, che non solo era il nome della divinità greca della morte, ma anche il luogo dove i morti risiedono secondo la mitologia greca. Quindi all'epoca esisteva almeno un'interpretazione in tal senso della condizione dei morti secondo la Bibbia. E tenete ben presente che gli autori del Nuovo Testamento, che scrivevano in greco, non solo erano ellenisti per lingua e cultura, non solo citavano la Bibbia dei Settanta quando si trattava di citare l'Antico Testamento, ma mettono anche in bocca Gesù stesso la parola Hades. Credo che sia chiaro che almeno in parte gli autori biblici furono influenzati dalla cultura greca e soprattutto ellenistica, soprattutto il Nuovo Testamento. Quindi è inutile cercare di armonizzare o fare un canone nel canone per cercare di occultare parte della Bibbia che non piacciono, pur di non ammettere che c'è stata un'evoluzione del pensiero teologico biblico. Questo non significa che l'escatologia biblica sia copiata da quella greca, ma che almeno in parte se ne fossero presi in prestito alcune cose. Diverso poi è dire che nelle dispute teologiche dei primi secoli del cristianesimo le influenze della filosofia greca fossero molto maricate, ma come vi ho mostrato prima, sia la trinità che l'arianismo hanno influenze neoplatoniche. Per cui la Bibbia non è esente dalle influenze culturali, e nemmeno le dottrine dei testimoni di Geova, nonostante cerchino di purificare gli elementi pagani da quelli biblici, cosa impossibile, è come se io volessi eliminare il DNA degli stranieri dal DNA degli italiani, perché tutti noi abbiamo antenati venuti da chissà dove. La prima parte del video si conclude qui. Nella prossima parlerò del rapporto tra TDG e popoli medio orientali. A presto e grazie per l'attenzione. Grazie a tutti.